da piccoli giocavamo con i mattoncini poi qualcuno li ha trasformati in vere e proprie opere d'arti qui a rai di milano zona navigli una mostra unica 100 installazioni per un milione di pezzi lego siamo col curatore della mostra fabio di gioia intanto fabio veramente complimenti perché è qualcosa di incredibile e complimenti anche a te perché questa è una mostra itinerante che ha girato per tutto il mondo e tu l'hai portata in italia ci vuoi un po parlare della mostra e del suo creatore tanto i complimenti li giro all'artista natan savaglia che si è distinto nel mondo per questo tipo di realizzazioni è riuscito a dare una forma alla sua creatività quello che sentiva dentro a sentimenti alla voglia di esplorare come poter fare con i mattoncini quello che si potrebbe fare soltanto con la fantasia con un materiale pop con un materiale facile che abbiamo tutti dentro casa e quindi natan savaglia è un grande perché ci lascia questo messaggio ci dice la creatività innanzitutto quello che abbiamo dentro innanzitutto cerchiamo di essere noi stessi ascoltando quello che abbiamo dentro lui l'ha fatto e nel 2004 ha smesso di fare l'avvocato ed è diventato un artista che ha iniziato ha inaugurato un filone straordinario con un grandissimo successo grandissimo seguito oltretutto una mostra adatta a tutti perché non è rivolta solo ai bambini ma anche al pubblico un po più adulto giusto no la bella sorpresa è questa che naturalmente sentendo parlare di una mostra a Lego di mattoncini viene spontaneo portare i bambini in realtà poi gli adulti sono più conquistati dei bambini quasi perché naturalmente i bambini trovano un mondo che conoscono un mondo di gioco un mondo di cose realizzate che è comunque affascinante ma l'adulto naturalmente riesce a leggere il valore artistico la difficoltà è tutto quello che queste realizzazioni rappresentano Fabio ultima domanda tecnica ovviamente tu sei un appassionato d'arte questo è poco ma è sicuro il tuo lavoro cosa vuol dire portare una mostra come questa in Italia le difficoltà e immagino il grande lavoro che c'è stato beh è una doppia difficoltà che si può affrontare solo con grande entusiasmo la prima è quella di convincere il nostro pubblico che questa è una mostra assolutamente bella da vedere da fruire è una mostra che elargisce un bel messaggio la seconda cosa la seconda difficoltà è strappare questa mostra ad altre città del mondo questo cerco di dare al nostro paese delle aperture mentali Nathan Zavaia è un'esplosione di creatività vogliamo solo ricordare fino a quando possiamo vedere questa bellissima mostra la mostra sarà qui a Milano al RAID in zona Porta Genova fino a fine agosto e forse anche il primo weekend per la prima settimana di settembre e in compagnia del mio amico dipinto di blu da Milano è tutto per TG Evans Andrea Evans The Art of the Break The Art of the Break